E' un saluto a casa a tutti ragazzi, io sono Giorgio Tritura dei Play a Caso e oggi insieme a me c'è E' un saluto a casa a tutti ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video, e oggi siamo sul, nel nostro mobospawner con la nostra prima prezzo Ciao zombie E adesso guardate, ne verranno molti altri perché adesso oscureremo là Intanto come potete vedere abbiamo fatto questa scalinata, così, è molto figa E guardate qua ci verranno in troppo di mob intanto, vedete che bello che si E questa scalinata per andare nella base in pratica dove, in pratica per andare direttamente al mobospawner E quest'area non essere toccata In pratica sì Dovanni sono caduto di nuovo Venghi, venghi Luca, te la la Usi il secchio d'acqua, non lo guarda Tra poco muoio Hai cibo? No No, che cosa? Che è successo? Boh, non lo so io tu Vado a cercare il cibo Cosa è qua? Perché c'era l'acqua? Dov'è che c'era l'acqua? Cos'hai combinato? Io niente, ho combinato Mi sento qua c'era com'è Parabababa Parababa 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 E se c'è sto qua non va bene Allora, stalla gondibla, stalla gondiblao, stalla gondibla un pochino, non so, per qua è lo scopativo Eh abbiamo legno o non abbiamo legno, che fai? Abbiamo sticchini si ti serva ah no no legno legno mi sa se c'è il guardato si non c'è anche c'è quel scherzo ah comunque per uscire facciamo ora la via rapida di qua va bene si io anche per uscire e poi andrà eh sta laggando infatti allora andiamo di qua verso l'uscita del mondo tutto il verso l'uscita ciao grave come stai di spacco son morendo così a caso alla fame la fame aiuto devo uccidere un coniglio qui mi spiace uccisore di conigli giovanni moglie no uccidiamo una regola oh è la cosa più vicina ok mangia mangia ho un mezzo cuore io uccidere poco io li massacro non uccidere poco perfetto facciamo qua passo così via non io via ah laggassi di me ma stai morando la sensibilità è un po' un po' alta mi sembra si si c'ho mezzo cuore ah vabbè faccio una grafting e noi adesso ci facciamo una bel pranzo una bel pranzo un bel pranzo anche io e bel pranzo io qua salga salga sono qua qua dove boh qui sotto sono voi voi sapete il perché di questo silenzio no allora ve lo dico io in pratica ci sarà un'incomprensione ma di quelle grandi ascoltate bene dove sopra sopra dove ho salito tutto quanto all'esterno sono sopra la montagna qui ma io sono qui sotto qui sotto dove sono sotto terra sono nel mondo spawn e come faccio a poi ti dicevo sotto terra sono salito no? eh vabbè si l'ho capito ma scendi aspetta devo mangiare ho due cuori ah ma qua c'è pane io ho mezzo questo qua è di polo devo uccidere buvete gioco pane mi sto prendendo una pozione di vita ok apposto tutto ho tutta la faga pietra ok qua tra poco vedete qualcosa che lascerei il segno nella nostra grandissima avventura preparatevi perchè potrebbe sorprendervi come non vi ha mai sorpreso qualcosa non 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 nel momento faremo una costruzione che lascia il segno qui non mi ha mai fatto questo non sono così perfetto che le abbiamo pure un po' la nostra data 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 allora poi così non sono i migliori facciamo così allora combinando niente si si è arrivato ora ma cosa no già non letto lo sto facendo l'ho sentito volevo dire però letto non ho capito cosa vuoi fare niente voglio fare che sta uccidendo molly sta facendo rito satanico no 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 che sta facendo lo stavo lo spazio perché entra c'è la mia costruzione rilasciare il segno ma che cazzo che c'è ma stai pagando niente di particolare eccoci per uscire della caverna non so la strada per uscire non la so come no e poi sto morendo di fame sto arrivando aspetta proprio dopo che la mia costruzione che lascerai il segno ma porca troia adesso lo facciamo così perfetto ho messo qui tre blocchi ok ok uno scrive ho fatto però così va bene apposta possiamo andare il mondo vedrà la mia opera ho paura allora ma non mi porta il cibo un c dovrà entrare ora qui c'è una come un 64 andate di caverne qua io ho provato di questo 8 il lag ecco sono venuto in quella più basso la stanza qua è finito non so peppe mi dispiace per loro mai più letto della camera ah le caspita se quello che ti giuro? no perchè? perchè è brutto dov'è? scusi se vi c'è il dp quale? mmm c'è il dp dov'è? no perfetto ora siamo con le super second setting che siamo volevo mettere questo che bello io sono un becille ora la cambierò appena rivela con una peppe oddio ma non ti capisce niente ma se è al contrario che cosa? ma il gioco è al contrario come c'è? che sopresetto è che? no un a caso ma è qui la camera posso ci sono sto arrivando ok vedi il super second setting mi aiuto ah ma sei levato no ne metto un altro che caspita è? oddio non vedo appena niente boom boom ecco di qua cosa si capisce? però è una figa questa sembra una texture fighissimo è un pochino bruttivo perchè lo direte molto bene dove sei? qua mi hai rimesso anche io che cazzo ecco di beppe eh tenga il cibo grazie che cos'è sto rumore? e qui c'è che il legno che ti serve ah ok cos'è sto rumore? qual'è il rumore? guarda cambio oddio cos'è questa? allora adesso avevo intenzione di no giovanni aspetta ho sentito un rumore troppo brutto che rumore era? mi sono cagato addosso che rumore era? una cosa del cielo e questo? cosa? il rumore non essendo rumore eh hai scelto una super serie setting si è che quella del rea lo fa quello il rumore ah ok allora adesso ho intenzione di prendere i nostri cari diamantucci qui prende dei belli stecchini belli belli beh qua facciamo tutto 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 ah ma stai a scuola dove c'è sto lì sotto? si allora effendo questo 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 andremo a prendere l'ossidiano questo è questo e cuociamo questo solo dai vada vada io vado a sparare i diamanti ma lo sai dove è l'ossidiana dove è l'ossidiana dove è l'ossidiana si noi abbiamo una candle ah una molto ossidiana candle è quella qua ma quella senza lag però eh se vuole torce ora cambierò la super serie sette perché questo è quella normale dai ehi 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 passando tutto 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 venga sto rumore starò bello ma spunto capila solo una volta idea no dico il rumore di mangio ah andiamo scompasso così all'improvviso madonna stavo cagato al boss allora allora noi spacchiamo l'ossidiana per un futuro milione noi spacchiamo l'ossidiana per un futuro mngggf noi spacchiamo l'ossidiana per un futuro migliore ok noi spacchiamo l'ossidiana per un futuro migliore c'è Гanty canso impressionismo di La Tale sui Diana non so dire cosa c'è il del nasale ora nooo eeeh when so this is christmas ho capito come vi like, ciao video e arrivederci questo non è affatto da come vi like allora noi spacchiamo l'osidiana non l'ho detto mai questa cosa noi non stiamo spacchando l'osidiana io non ho mai detto una cosa simile non vorrei mai dirla che? stavo lì c'è sto bangato ok adesso possiamo andare a chiudere quelle a togliere quelle torce la 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 devo togliere queste torce maaa ora sono uscito un snapshot a volontà di essere si eeeh 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 che è successo aiutami per favore non ho blocchi non lo so ce li avevo e mi si sono scombassi mettilo qua ecco grazie eeeh eeeh ok vado a prendere i blocchi si aspetta ci penso io a chiudere nooo chiudo io chiudo io guarda ma lì c'è un'altra ci sono altre cose quella parte luce qua via la luce chiudiamo no ah mettermi chiuso dentro questa è la vendetta per lo scorso episodio avanti perchè non sono come a te ti libero ma dai mi stavo liberando da solo ma c'era bisogno no colpi con il diamante quello spiegavi colpi quindi ho il piccolo in piedi infallo eeeh maffa ok qua c'è il mobo spawn non solo faccio il gentile vado qua c'è il mobo spawn eeeh eh perfetto quindi ragazzi no ok ho 6 pezzi di ossidiana e prendo un altro bel po guardate qua quanti eeeh bene ragazzi ho apposso un bel po' di ossidiana ne ho 20 eh da quando ci dice il nostro peppe qui il lavoro che sta funzionando qui sotto io uso la scala stram perchè io sono trasbitto ma l'ho chiuso ma no perchè ma perchè non serve aaaah uffa io ero così convinto usiamo la scala l'archeologa anche io oh quanti zombie è ora di morire no sono qua bene il nostro mobo spawn funziona a quanto vale il nostro caro mastropeppe ha fatto un buon lavoro mastropeppe eeeh il posto di voi ho posto un po' di ossidiana e nel prossimo episodio andremo nel nerd un saluto a casa per tutti voi ragazzi eeeh eeeh e ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao